ok siamo in live adesso deve arrivare la notifica alla gente deve arrivare la notifica alla gente ok aspettiamo il matteone ciao gente ciao gente oggi si fa la storia oggi si fa la storia signori si fa la storia Mauro magari oggi Mauro troverà così 9 milioni di giocatori ciao come state come state allora vediamo ci sarà un terzo ospite che sta arrivando vediamo chi indovina chi sarà seduto su questa sedia vediamo vediamo allora 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 ciao 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 si si è il più acclamato dalle donne dai dai il più acclamato dalle donne tutti tutti il più acclamato dalle donne è Mauro Giacomini si arriva il matteone arriva il matteone signori arriva il matteone oggi signori abbiamo non vi dico quanti pacchi da aprire non vi dico quanti pacchi abbiamo oggi da aprire e alle 10 escono i bacchetti cioè ragazzi ragazzi siamo veramente alla follia siamo veramente alla follia oggi in tutto ci saranno tipo 300 euro di pack opening saranno di più tre più perché no chi troverai oggi o chi troveremo oggi io mi sento tipo un tutti militao 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 oggi mi sento militao no no non vogliamo le tipe oggi ragazzi oggi solo io ma il maurone il matteone alla caccia dei toti signori saremo alla caccia dei toti fantastici quattro sono il lunedì il lunedì signori allora 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 no no vabbè questo aspetta allora oh grazie mille matteo trecca grazie mille per i quattro mesi allora vabbè leviamoci subito queste merde qua che cazzo ma niente tutti e tre ce li ho stasera lo trovo ti immagini il toti qua attenzione allora tutti ce li ho tutti c'è tutte le carte del gioco tranne i toti metti il counter dei toti volete il counter dei toti vai mettiamolo mettiamo andiamo a vedere i pacchetti di lughino aspetta se vabbè toti per ora zero non si vede ok mettiamolo qua bene ok toti zero signori clicco aspetta aspetta allora 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 mentre aspettiamo mentre aspettiamo il matteone adesso per ora apriamo questi prima di shoppare oggi oggi ci sarà la shoppata del secolo ma intanto dai per ora apriamo questo non so manco male no 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 li ho tenuti allora come riscaldamento signori ci sono questi cinque pacchetto ultimate due mega pacchetti un pacchetto giocatori rari un pacchetto oro rari quindi io adesso vi faccio la bet su questi secondo te mauro quanti walk out ci saranno in questi cinque pacchetti dove allora il pronostico sarà ci saranno almeno tre walk out 15 15 allora signori 3 walk out si no secondo voi ragazzi ci saranno secondo me secondo me si 3 no 2 si secondo me si però alla fine sono pacchetti buoni quindi 3 si secondo me si ma matteone robert dov'è? dov'è il matteone robert? il matteone nazionale deve arrivare a momento adesso adesso c'è il matteone adesso arriva il matteone che magari matteo arriva tra tra cinque minuti in teoria arriva il matteone allora 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 secondo voi ci saranno bettate bettate stanno votando di più su su novalese su si sono fiduciosi i ragazzi sono fiduciosi c'è da dire che i ragazzi sono fiduciosi e se i ragazzi sono fiduciosi io mi fido dei ragazzi qua abbiamo un pacchetto con 6 6 abbiamo però aspetta una squadra della settimana di 100 non sono buono ancora oh ciao Violet un bacione forza Napoli allora 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 il matteone a cillarsela sul divano no 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 sul letto allora vai Mauro sei carico primo pacco lo apri tu vai questo vai subito Toti subito Toti minchia meno ma meno maronna onana che schief Alice passa a fare un saluto magari do mamma tutti i doppioni ce li ho ai giocatori cioè bom scart scartiamo tutto signori nei nei pic 75 più ho trovato Toti eh magari allora dopo li facciamo vai questo tocca a me oh sì 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 questo questo lo sento è nell'area questo è un workout minimo minimo Spagna portiere minchia maronna maronna che schifo che merda signora eh scartiamo tutto mamma mia vai Mauro questi due li apri tutti e due tu come tutti e due ma no signori tre walk out ma quando mai tre walk out Iago Aspas mamma mia Firmino non era forte una volta ecco ho trovato KDB tutti che trovano tutti e noi che paga aspetta magari troviamo il triplo walk out ah vai tocca ancora a te grazie vai dai dai faccio un Toti faccio un Toti minchia Roberts questo è un walk out questo è un walk out signori primo walk out vediamo se c'era ok solo uno ok e adesso l'ultimo pack nell'ultimo pack dobbiamo trovare due walk out si si manco uno oh comunque guardate i crediti ragazzi guardate quanti crediti ho signori due milioni bro due milioni e mezzo solo solo per Alan Toti ecco devo tenerli per Alan Toti attenzione attenzione manco per il cavolo manco colorato Spagna che schifo Rodri è walk out se sotto c'è un altro walk out che ha messo sì ha vinto la bet c'è un 85 non lo voglio Benzema Toti voglio solo Alan signori non c'è nessun walk out maronna quindi sono stati due walk out hai detto bene Mauro bravo ma adesso signori allora aspettiamo le 10 intanto quello là lo puoi aprire poi aspettiamo alle 10 che escono i nuovi pack allora aspetta vai sul tuo account aspetta che metto qua mentre vai sul tuo account allora ma il Matteone dove cazzo è il Matteone però Matteo l'altra volta portava sfiga quindi prima fammi aprire quel pacchetto Matteone stiamo aspettando te insieme alla chat per aprire i super pack qua eh che qua ci sono 24.000 fifa points sfiga signori 24.000 fifa points adesso arriva il Matteone sto scrivendo le password adesso arriva il Matteone aspetta scrivendo le password quindi non non vi facciamo vedere sennò poi arrivano arrivano gli hacker ventina notifica eh ventina notifica che mi spendono i soldi su vai fatto sì aspetta va bene entra nel gioco allora va bene quando il Matteone verrà in tempo io mi dimmi no il Matteone non arriverà mai in tempo si è mai presentato il Matteone una volta in orario è mai arrivato una volta in orario il Matteone chat che voi vi ricordiate il Matteone è mai arrivato una volta in orario che io sappia no vai orario avviato prossimo sondaggio aspetta un attimo un attimo aspetta adesso adesso tra un po' è più veloce trovare un Todi che l'entrata del Matteone sì adesso mettiamo su 15 Todi su su che c'è che 15 Todi 15 Workout palese aspetta prima su sto pack vediamo allora Zano ha shoppato 450.000 FIFA Points e purtroppo non ho i soldi di Zano ci arriverà ci arriverà ci arriverà c'è che c'è i soldi di Zano è Blur forse Blur ne ha di più 24.000 FIFA Points signori e 12.000 credit allora perché ti provo su questo allora aspetta 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 fammi bettare fammi bettare vai indietro vai indietro cosa c'è scritto 30 giocatori orrorari di cui 4 quindi 4 sono walkout sicuro perché 4 sono 86 quindi secondo voi ci saranno almeno 6 6 walkout in questo pacchetto signori in questo pacchetto secondo voi ci saranno 6 walkout secondo me sì 6 sì ma pure 7 direi vai un minuto per bettare e poi apriamo il pacco signori una casa di Milko dai oh questo è Mbappé questo è Mbappé questo è Mbappé raga vediamo shoppato la scuola settimana dietro la stita oggi non ne trovo niente con tatuati che 90 no 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 con tatuati tenete voi 400 mila vale vogliamo le ragazze Luca ma le ragazze non sanno aprire i pacchetti arrivo il Matteone ha scritto arrivo certo l'isalucchetto ha trovato allora il Matteone ha scritto arrivo quando il Matteone scrive arrivo c'è da fidarsi ho fatto partire la bett mancano 20 secondi e poi puoi aprire il pacchetto signor Mauro Giacomini sei carico esci le ragazze le ragazze dopo solo se fate i bravi se arriviamo se arriviamo a 530 sub siamo a 513 porto le ragazze porto le ragazze in live solo per voi tutte tutte quelle che sono in casa le porto allora vogliamo vedere Luca che gioca con Erling Totti eh no ma infatti per forza per forza per forza per forza allora tutte l'ho detto le porto tutte vai apri Mauro è il momento è il momento va ah così proprio signori maronna brasile 89 vediamo qua maronna oh quattro c'è nei doppioni non c'è vabbè qua modric lo ti manco in prestito troviamo un bappeo mess e qua guarda guarda se ci sono no niente quattro cioè giusto quelli giusto per regalare cioè vabbè quattro mamma maronna santa le macchiette ragazzi allora 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 le macchiette allora 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 prediction aspetta paghiamo il no adesso uno di figa ah qua c'è pure un pacchetto giocatori raro abbiamo uno questo poi aspettiamo gli altri sì esatto adesso aspetta qua 26 giocatori rari uno è walkout sicuro 26 giocatori rari 26 26 di cui uno quindi signori quindi signori poi qualcuno ha idea che pacchetti escono alle 10 ragazzi voi sapete che pacchetti escono alle 10 avete idea o proprio zero no nessuno lo sa bene allora anche qua bet anche qua bet signori qua qui due vabbè no qua li trovi qua li trovi signori dai oh in sto pack ci saranno due walkout secondo voi dai due oh vuol dire trovare un walkout in più e che cazzo non porteranno spiga sti pack sempre escono i pacchetti da 500k con 100 giocatori golosi 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 vediamo vediamo abbiamo solo questo papà ragazzi sì 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 questo e poi gli altri dai dai che sto counter dei doti ancora a zero maronna santa sempre a zero dai 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 mancano 30 secondi per bet 30.000 sul sì sì vi ricordo ragazzi punto esclamativo prime potete abbonarvi gratuitamente al canale ed entrare nel mio gruppo telegram se schiacciate punto esclamativo telegram vi arriva un messaggio dal bot in privato nel direct di twitch schiacciate il link e potete entrare nel gruppo telegram solo se siete sub se no il link non ve lo prende lui fai l'icona dopo dopo calma 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 dove faccio i icono eh dov'è dov'è Matteo spera è messaggio di Matteo ancora arrivo si sta facendo la piadina ma non può ma cosa sta facendo ragazzi ma cosa vuol dire ma Matteo ha mandato una piadina si sta facendo la piadina hanno bettato vai Mauro il tuo momento ragazzi vai aspetta col naso vai Mauro col naso vai Mauro col naso chi ste nudoti chi ste nudoti ma ro guarda gli ragazzi benze no benze ma è impossibile ma ma che schifo c'è 86 più trovi l'86 ma è in gu ragazzini eccolo eccolo chi ste nudoti ecco ma no ma no ma ma cobel manco sommer adesso aspettiamo le 10 si adesso aspettiamo le 10 e cerchiamo di parlare e interagire col Matteone mentre aspettiamo le 10 se il Matteone arriva quali toti sono usciti tutti sono usciti tutti i toti si esatto adesso aspettiamo aspettiamo le 10 fai vedere la tua squadra Mauro fai vedere la tua squadra ragazzi cioè non è forte non c'è manco intesa non ci gioco mai eh quanta intesa signori con Salah qui sai cosa fai ma no riprendilo Salah ma scusa Teo Hernandez metti l'ITS come ruolo non lo fa ma come eh no perché è la versione c'è solo ASS vediamo aspetta mi fa vedere ma chi è tuo figlio Mauro Mauro sei mio figlio ATT cioè puoi fare l'ATT come ruolo alternativo ma sto male cioè puoi fare l'ATT Teo Hernandez ma ragazzi devo dire ma questi che non ce li hai puoi buttali via ma l'ho fatta ieri ma buttali via ma vogliamo fare l'icona intanto vuoi far l'icona eh vedi se c'è il giocatore non lo so oh vuoi far l'icona signori signori è carico vuole far l'icona non so se c'è il giocatore non le fa e guarda per farli allora controllate vediamo 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 signori attenzione oh grazie mille Ricky per i quattro mesi perché sta in corso prossima gioca titolare no titolare no secondo me oh sei sentita la voce del Matteone vediamo chi c'hai allora Kimmich vediamo prendiamo tutti quelli che non usi questo la voglia se ce l'hai stiamo facendo l'SBC per che calda allora vado un secondo su lascio qui un attimo ma cosa fa cosa fa la piadina con cosa la marmellata non c'è più la presa non so dove l'ho mangiata io stamattina ecco signori non c'è qua il caricatore dell'iPhone eh no vado a prendere vado 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 niente ragazzi il Matteone è arrivato già deve arrivo arrivo allora vediamo 86 giusto ecco però basta è possibile fratello e poi gli altri come li fai coupes è dura no non puoi ancora la facciamo a fine serata quando troverò una cirurgica ah esatto quando c'è una cifra di giocatori allora mancano dieci minuti allora facciamo uno aspetta ragazzi 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 facciamo uno scherzo al Matteone facciamo uno scherzo al Matteo facciamo uno scherzo al Matteo cosa eh cosa facciamo chat dire qualcosa facciamo uno scherzo al Matteone uno scherzo al Matteone e poi torniamo a spacchettare cosa possiamo fare nascondigli la piadina dammi 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 no così la vede guarda vai 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 no mangia la no si incazza vai Mauro così vai lasciala via lasciala via vediamo 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 va vediamo vediamo vabbè vabbè vediamo no oh ragazzi state zitti eh state zitti ragazzi state zitti allora il telefono di Matteo qual è? questo aspetta il telefono di Matteo cosa facciamo con il telefono di Matteo? no magari trovare Mbappé Cristo Santo se no se no apre un pack a ne guarda lo sapevo dove è finita la mia piadina benvenuto a bordo del pandino benvenuto Matteone siediti vieni vieni Matteone c'è da notare anche un'altra cosa ci ha trovato un uto di Matteone è un'altra cosa Mauro aveva un attimo fame e l'altra cosa? vieni cosa? c'è un'altra cosa che manca sul tavolo quella era troppo bene vieni vieni Matteone vieni siediti che la hip train si avvicina grazie mille da Dolago 29 grazie per il prime hai visto che il Matteone è arrivato? aspetta avete Matteo fa il prezioso cosa sta facendo? ehm telefono telefono io lo scordo benissimo ma porca miseria ma guarda veramente sti scherzi dove è? dai dammi sto telefono il telefono oh chat non dite niente eh no rega ma anche perché il telefono non dite niente dai prima o poi una delle due cose le trova anche perché sono in due posti diversi no no non stanno sotto cioè non stanno qua occhio al Matteone sbircia guardando in cam cioè stai sfide pure in cam eh no in cam non si vede ma dai ma che schifo sai che cazzo no no c'è ti voglio ti fa solo in struttura oh 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 la marmellata a parte del telefono che è nascosto bene 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 buona no fa cacare no che sta io do il telefono lo non troverò mai fra allora è nascosto bene allora il telefono posso dirti per certo che non so nemmeno io dove l'ho messo è nascosto è nascosto è nascosto bellissimo io do poi l'ho vibrato oh è nascosto sono andato che Mauro era qua dietro non lo so ma vera ma dov'è aspetto ma dove cazzo l'hai messo dove cazzo ma sto male te l'ha messo sul tonno ho c'è rotto Mauro riprendermi tre prenderli iphone 14 pro devi prenderli cosa sta mangiando il matteone il matteone sta mangiando piadina di farro 5 minuti 5 minuti piadina di farro e marmellata di flutti di bosco 0 quindi dopo niente latte e cereali ma no allora allora ma te da 4 minuti non li avete presi infatti non li avete presi che pagliacci ma che cazzo mettiamo ci sono gli altri wafafix scusate c'è di pancake c'è di pancake allora bene bene allora allora piadina con un po' di polvere che c'era nel muro sai un po' di polvere un po' di muffa allora mancano 4 minuti secondo te Mauro ha trovato qualcosa in questi pacchetti che ha aperto no ma proprio 0 0 allora 0 0 0 andiamo a uscire da ultime team per entrare aspetta aspetta intanto mancano 4 minuti cosa mancano 4 minuti escono i nuovi pacchi intanto pure in me mi compro un Mario Rui perché così compro un Mario oh magari magari fa trovare un Toti Mario Rui attenzione 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 Mario Mario Rui ma perché College Como Pazzerello perché cosa perché ti scrivono Mauro College Como maestro Mario Rui ah qua vai oh maestro vai ma te oggi com'è andato il tuo allenamento normale beh io ho fame ancora si si poi anche sul mio account ragazzi che cazzo ne so costerà mille Mario Rui cioè eh 700 600 vai compra di Musa cerca di Musa lo usavo come super sub tipo in FIFA 15 vai si compra a caso mancano 3 minuti signori Musa Musa dobbiamo trovare qualcuno magari secondo te troviamo un Toti oggi con Mario noi Musa spero di sì però manco per il cazzo qual è no madonna non c'è più è madonna è Ahmed Ahmed Musa ma è lui è lui costa 100 non so era fortissimo più 90 non c'è sul mercato si a 400 non c'è sul mercato alza è forte alza è forte figa al tempo era 1 ora ora 75 baggatissimo che correva bene signori mancano 2 minuti intanto 2 minuti c'è pure il jolly infernale dopo magari facciamo anche l'SBC dal mio guarda va ti Hernandez ala ma Modric Toti non è vero Modric Toti l'ha comprato sto maiale davvero eh sì non trovo nessuno contro è bello la vita così trovo pure cosa ho leggendo dove è Mario Rui scusa non facevi prima cercare Mario Rui figa che cazzo è Mario Rui dai ragazzi manca un minuto manca un minuto eccolo come faccio a prenderlo prendere un altro ecco così eccolo oh ma mi è partito eh l'ho visto lo sfondo è bello tu sei bello la felper ha matchato con lo sfondo senza volerlo allora ci siamo aspetta esci d'altimettino esci d'altimettino è Musa ma Musa allora o maestro Mario Rui lo mettiamo punta punta Mario Rui punta si infatti poteva cercarlo al posto di scorrere appena sono le 22 entriamo quanto manca le 22 un minuto ecco no mancano 25 secondi 25 secondi signori 25 secondi 25 secondi e si scrive la storia ha già trovato due toti due toti troviamo oggi signori quando avrete la 24 ore due toti è da fare ma dobbiamo dobbiamo vai 22 22 non so le stavano vai 22 22 marone io ho detto che troviamo Militao stasera o sul suo account o sul mio ma Militao lo troviamo vediamo cosa c'è nel negozio vediamo cosa c'è nel negozio dimmi che c'è qualcosa di goloso attenzione un eroe foot 75 giocatori ora orari e 5 walk out minimo signori vai in fondo l'ultimo 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 è solo uno è solo uno ragazzi aspetta aspetta oh qua è la super bad qua è la super bad calma figa non puoi aprirlo così di fretta oh ma questo si può schienare oh ma signori secondo voi ci saranno allora 6 walk out ci sono per forza perché c'è l'eroe che cazzo fa il matteone ma allora io la provo secondo voi ci saranno 9 walk out più fra ce n'è solo uno che è 6 sono 6 sono 6 quelli garantiti quindi se ce ne saranno ci saranno 9 walk out secondo voi Matteo nazionale secondo te quanti 9 walk out 6 sono garantiti 6 sono garantiti secondo me 10 10 10 no 11 11 c'è solo sto pacchetto vale 30 euro solo sto pacchetto signori oggi si scrive la storia mi prendo due paia di due paia no di più oggi oggi si scrive la storia oggi c'è il toti oggi c'è il toti ah ti giri almeno ti facciamo indovinare l'eroe eh dai 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 no no fai le domande dai ci sta dai almeno oh Matteo è la paypal Matteo non shoppa oggi oggi no oggi mi limito guarda perché di solito di solito il Matteone come 5 7% di possibilità di trovare un toti madonna quanta c'è di perso un toti di tornantodi 6% è buono di solito è 0,1 allora vai oh eh però è solo uno Matteo oh tutti e tre con la forza vai ma poi tutti 3 2 1 eh no ma cazzo 3 2 1 vai girati attenzione l'eroe è uscito l'eroe è uscito italiano aspetta no eh non risolverlo ti dico solo che fa schifo è stato il miglior giocatore dei mondiali del 2010 aveva un anno andava in gira for l'anno vediamo chi c'è sotto magari c'è sotto Nudoti eh un po' non credo magari c'è sotto Nudoti quanti workout ci sono 1 2 3 4 5 6 9 9 walkout ed è giusto vediamo nei doppioni Mauro bestemmia puoi posso no dai non farlo no mauro vuoi devi essere rispettoso Mauro puoi ciao Mauro 3 volte al Mac e invece no per un pacchettino di FIFA Mauro puoi tranquillo no bene walkout a go go quindi ma che sono te erano 10 più un cuncuno ai doppioni ma che c'era anche il cuncuno ai doppioni si è ripetato allora madonna madonna santa allora 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 aspetta allora nei prossimi 3 pacchetti di questi di questi secondo voi allora 3 walkout ci sono per forza ci saranno almeno 6 walkout no signori secondo te Matteone ci saranno almeno 6 walkout vedendo l'andamento vai tre merde si lì da Sergio Buschetti Tony Cross e Casemiro ma che 8 erano 10 contando l'if e in cuncuno esatto esatto l'if era walkout vai in questo pacchetto non pensarci aspetta non pensarci devono bettare allora allora in questo pacchetto c'è un toti Matteo il prossimo pacchetto esce perché l'altro giorno quando c'eri tu non lo trovo niente quindi tu esci vengo io qua con Luca e vedo se trovo qualcosa ok ma questo è il prossimo questo ma anzi non è il prossimo Maron vai messi i toti sto pacco è meglio degli altri apri pacchetto scorta aspetta cos'è pacchetto scorta vai cos'è ma vaffanculo 100 giocatori oro comuni che schifo 100 giocatori oro comuni 1% aspetta fa così ma il pacchetto scorta che merda è ma non è normale raga sveglia l'if da 84 walkout esatto pacchetto basi toti ma c'è trovano tutti ma lo capo aspetta è il tuo momento vai Mauro vai Mauro è il tuo momento Mauro vai è il tuo momento stai prendendo apro io apro io vado di naso ecco eccolo eccolo non so buoni spagna basta forte pedro porro pedro porro pedro porro se non sbaglio si scopa 3 walkout 4 walkout 4 walkout in un pacco signori 15 euro di pacco questo no anche questo 30 no 15 questo no 3000 fifa points anche questo solo che questi sono scambiabili 4 walkout vai matteone vai matteone vai matteone vai matteone vai rober di classe di classe attenzione bello stu toti è vero già è finita la bet per forza perché 6 walkout ci sono per forza varanna varanna non è forte eh si è inizio gioco era forte intanto un pacchettino dopo ne abbiamo questi scartali che cazzo te ne fai dagli 81 in giù scart attenzione vai si adesso la paghiamo la bet apri l'ultimo Mauro vai oddio cos'è la bet Giacomini di foca spera venite più signori e paga sto si e paga sto si un Giacomini fortunato quest'oggi Luca non dà essere in bocca è un Giacomini fortunato allora però Mauro ragiona sti 7000 FIFA points volendo potresti tenerli per lunedì c'è no per martedì martedì c'è ancora e c'è anche Alan Toti non mi interessa di Alan Toti eh no c'è tutta la squadra più Alan Toti magari ci sono dei pack più belli però decidi tu ma scegliamo anche io io stavolta non finanzio eh solo per stavolta perché di solito di solito finanzio sempre chi sta fa cacare venerdì esce Alan domani allora vai vai Mauro apro questo prova vai uno uno first try al volo vai vai così carico secondo me è walk out secondo me è walk out ed è walk out Tony Cross manca solo Busquets pure Skriniar doppio walk out ma che merda di pacchetto è se volete provo a uscire un attimo ma ma Skriniar magari Mauro ha chiuso Rocco no Rocco entra Rocco ma che fa ma che fa ma che fa ma che fa Guarino ma 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 c'è Rocco Grigga X Maronna Maronna è Luca Rodri si si infatti io li non capivo fate entrare il pro di FIFA oh oh Rudiger non è non è è uscito mi buonasera chat buonasera chat adesso vabbè stavi spacchettando tu si ha shoppato 24000 FIFA points però allora guarda qua uno a testa vai vai io prendo questo signori eccolo domani fai la VL con un guaro eccolo maronna maronna chelini 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 non può circolare chelini non può circolare Rocco no no era meglio toti trovati uno toti counter uno dieci 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 toti tu vai 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 robert vai robert di cattiveria così sì sì questo è toti eh sì toti ragazzi che tra un po' tira una bestemmiona mauro caccia il porcone mauro no mauro no mauro continui scarda tutto che cazzo le foto le stesse massimo ma che massimo te ne compri toti vai mauro chi stai buono mauro ma come schipi ne mar oh oh ne mar ragetic oh ragetic 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 ma che ciò cazzo le scartate oh scartare quanto costa ne mar quanto costa 100 mila vale più 90 cap non vale un cap ha scartato si va giù no che scartato che scartato ha messo guarda ne mar ancora bello ma ne mar è buono ne mar 2 milioni e 75 oh buono lui c'è il tarocco 79 mila costa ma comunque è incredibile come le carte di anno in anno quelle lauro da cinempo ma non possono no beh imbappé imbappé però quanto sta imbappé ma solo imbappé ma perché veloce è velocissimo imbappé è imbappé senza pensarci a 780 gli altri sono tutti sotto i 100 praticamente Ronaldo Bruno Bernardo chi sta buono chi sta buono andava a Sassuco pure Luca guarda se Bernardo Silva ce l'hai almeno prova e no ma guarda se ce l'hai niente devi scartare guardate che te lo fottere stanno si pure non ha betta vai è il mio turno è il mio turno signori la caca ah no è vero ci abbiamo ancora e allora apri qui Mauro vai Mauro chi sta buono Mauro oh oh ma va Zeko pensavo che era Centurion ho detto ma che cazzo c'è Zeko oh buono guardi che Zeko per le squad battle è utile porco oh eh guarda qua attenzione oh questo è sicuro e siamo a due toni benzemato quando hai scioppato per ora Nukaz ma chi c'è oh sai che voglio di me che c'è ma è vaffanculo Rocco tantissimo allora attenzione ultimo dov'è no vai Mauro no no nel pacchetto scorta vai guarda hai visto il pacchetto guarda quel pacchetto da 100.000 100 giocatori oro comuni ma forse ma che cazzo serve il suo pacchetto forse per le sfide per le si ma oh Giacomini è nel suo prime moments meno male che stai nel tuo prime moment sono scipo bronzo porca troia che schifo eh c'è Mena che è forte madonna Mena e Totti Totti dei bronzini non neanche degli argentini degli argentini bello oh c'è un pacchetto oh c'è un pacchettino eh buono vediamo bello guarda schippalo questo vai a aprirlo vai ai miei pacchetti ha fatto che ha speso 250 euro e non ha trovato niente ah vai sui miei pacchetti da piacere no oh no dovrei che dovrei mamma mia dovrei che fare prima avevamo voi lo facciamo vai su i miei pacchetti scaccia Totti guarda bello oh oh mi fa un milionare pedraza io adesso rido ma adesso se shoppo io e non trovo nessuno anche tu vuoi shoppare? eh vabbè però però io mi ritengo anche per lunedì per quando la squadra no no c'è la squadra è solo che lunedì poi c'è la squadra completa con Alant con il dodicesimo vai Mauro dammi fai prima la l'icona ah è vero facciamo l'icona oh dai dai qui troviamo un bel allora adesso adesso possiamo farla spero prima l'icona adesso possiamo farla l'icona oh guarda guarda e domani non ci sono guarda cos'è copiato ok vai e questo è fatto e questo è fatto signori Mauro l'icona esce sicuro uno che vuoi tu no la squadra completa no la squadra completa più Alant ragazzi allora 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 accusi 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 ok Neymar no va bene Neymar non te lo uso fraghie no cross poi forlampo circolare forlampo circolare no rocco dice se possono circolare o no i giocatori cordolo va a circolare si fabbino va a circolare si si gioco andiamo Nkunku Nkuman Milinkovic Lakaka Bruschetta Kostic Sommer Skvignara Tadic Rais Vlaovic Mediaprime Midprime o Iro Midprime o Cosa l'Iro quale il blu quello del mondiale quello arancione vediamo allora vediamo qui come come siamo messi ok 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 siamo ancora dentro siamo ancora dentro siamo ancora dentro siamo ancora dentro signori incredibile ok no basta proviamo il posto di 85 siamo ancora qua ok a posto oh Mauro girati Mauro aspetta aspetta no no qua ti giri non c'è l'Iro dicono non c'è l'Iro quale ah ok no no World Cup 88 più sta scritto c'è sta va 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 no nascondire o no però no non nascondire si ma è straordinario nascondire è divertente però ma è divertente se c'è qualcosa di clamoroso no questo non lo so e si perché serve un if usa usa il mio if 79 e no perché la squadra deve essere 85 più dai dai che ce l'abbiamo signori dai che ce l'abbiamo è il momento è il momento mauro il momento buono Mauro Mauro chi sta è il momento buono Mauro ok ah grazie signori eccolo eccolo marone Mauro girati Mauro premiti premiti giri subito perché questo è bello certo aspetta attenzione oh questo è bello chi sta nu doti Mauro ah no non si può aspetta oh spai che copri Rocco attenzione allora attenzione vai Mauro vai Mauro l'ha aperto no reaction attenzione attenzione no reaction è già così no forse il suo ruolo è il migliore questo è poco ma sicuro è brasiliano brasiliano chiedi chiedi qualcosa che stats vuoi sapere è buono è buono comunque veramente buono è terzino destro terzino destro Alberto Carlos no no ti devo dire buono buono è il secondo migliore nel suo ruolo di tutte le icon dopo walk allora no no di tutte le icon è più forte cioè ci sta Carlos Alberto ci sta ma non ci sta perché mi hai detto non è il prime questo però mi sa che è il baby no è il mid è il mid voglio dire oh buono Mauro va bene è buono poteva andarti peggio ma anche meglio però poteva andare molto peggio veramente vomita attenzione destra quanto è alto questo devo fare il dc ah in un ruolo alternativo c'è il dc ma questo è fortissimo porca troppo aspetta vediamo forse ha smoltato si si mi sai si quanto è alto ha smoltato è vicino a chi lucoso che è lucoso scarsa che tirala chi è allora si allora si difessore centrale che era questo quello là che cazzo chi è che chiodo chi è ma mi chissà è forte difensore ma poi Mauro ma che ti è assalato il terzino perché ti è assalato il terzino guarda 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 no è Arnold no è assalato il terzino salato ma che vuoi dissi la terzino guarda che è il centro ma che è guarda il centro avanti ma che hai fatto Mario Ludo che hai fatto ma che hai fatto vai tocca a me la divisa più bassa di qui effettivamente sono bassa tocca a me ragazzi sei pronto? è il mio momento parco oh Mauro aspetta un bacio con pari Rocco che puoi fare? un bacio con pari signori oggi trovo qualcuno è stanco ragazzi trovo qualcuno Luca ve lo giuro me lo giuro sotto la mia famiglia me ne vado no me ne vado ah no ha detto me ne vado finchia pensavo abbandona stardust me ne vado lasci stardust lascio stardust se trovo trovi un todio qualunque todio più di 96 più di 95 e tutti e tutti a parte Milita a parte te o Milita allora più di 96 no no qualsiasi todio freddo qualsiasi todio se trovi un todio assai qualsiasi allora facciamo così no lascio stare adesso troppo lascio stare adesso per un mese tanto può fare trovo un todio tanto tanto può fare quel cazzo che vuoi allora 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 però cambiamo se non viene più forte guarda questo cazzo di cose guarda se trova Bellingham l'uva muoio penso aspetta lo puoi rifare? mamma chissà quanto maronna maronna è mille oh cazzo aspettate devo autorizzare in app orca madonna ooooh ooooh ragazzi vi faccio la foto ve la mando 100 euro ve la mando eh no che 100 di più mi segui più non mi segui più credo manno a ron nascondiamo chiediamoci gli occhi ah ma oron fai ma va bravo oh fanno dai dopo ci mangiare pancake come a te ok ok Luca non si può picchiare no no non fate niente ok fatto autorizzato bene si può tornare ok vediamo torna al gioco salgono così di botto? si non mi espongo giusto ok ci siamo ci siamo signori signori eccolo guarda questo maron maron era bello fra ma non ho bisogno qua ti giri no 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 io mi sono girato no 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 devo far la bet allora qui ci saranno secondo voi dieci walk out e scrivete nei commenti se Luca si gira in questo panchetto in questo panchetto si in questo in questo pacchetto in questo pacchetto troverò dieci walk out secondo voi si però ti giri Luca si dai mi gira signori troverò dieci walk out in questo pacco Matteo perché stavolta non scioppi? attenzione stavolta non scioppo perché tutte le altre volte si attenzione signori attenzione signori tranquillo è il pacchetto speciale dell'anno nuovo questo questo che se ti faccio portare aspetta 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 un attimo da 1750 troppa di più dicono no no avangulo oh 6% di trovare un toti 6% toti è tanto no 3% 6 no no vai sull'altro Rocco era molto concentrato nel video di Alice avangulo Rocco non l'ho visto io guarda aspetta dammi schiaccio e mi giro no no aspetta 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 oh oh allora qua aspetta questo pesa questo pesa maronna si pesa ma è uno solo questo di che si può aprire sti cazzi guarda io lo ammattico nel nazionale allora aspetta non danno a me che vado a me dopo c'ho una fortuna allora maronna vada maronna oh aspetta naso ti giri maronna attenzio no reaction aspetta che lo faccio sotto Luca ma te mi credi forse lo puoi inserci lo puoi inserci lo puoi inserci lo puoi inserci la squadra si si no 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 non sto scherzando ma te è vero si è vero che sei forte giro si si bene pito su raghi dici nei denti aspetta attenzione sotto attenzione sotto mamma maronna mi peggio di questo è rimbossibile peggio di questo veramente difficile godo veramente difficile peggio di questo ti sei impegnato 1 2 quanti vuol cattro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vediamo nei doppioni magari c'è già qualcosa di bello si assicura 10 10 qual'era la bet 10 eh fra paga la bet ma madò ma no buonino ma vaffanculo buonino il cazzo buonino che pacco di merda ecco problema coi server dai che magari te lo fari aprire no si mia marò marò era più di 10 ah era più di 10 a bet no no 10 marò oh c'è il papo eh marò marò mamma che schifo che se quando si trattava la maggior risa per l'ennesima volta marò ma no schifo marò scartalo pago il sì aspetta che pago pago i 10 walk out che betta marò che finaccia questo lo puoi mettere il titolare 10 walk out sì è vero puoi mettere go for it 11 con rodri doppio ma quindi mamma 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 quel cazzo c'è nell'SBC fatemi levare sta cosa che sono nervoso aspetta deve aprire quello là no aspetta ma vaffanculo aspetta aspetta che c'è allora fogbano un po' circolato facciamo un po' di questi ho visto che han droppato un sacco vai vai and droppato no questi droppano se ne faccio tipo una ventina ma dai sai che io ragazzi ho strasonno mi sa che vi abbandonano sai che anche secondo me è droppa ah per quello c'è il pack scorta per fare tutto questi c'è il pack scorta per fare tutti quei dai proviamo allora parti da 0 mettiamo qua generatore rosa aspetta basta fare così crescente oro ok via uno vai dai su 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 qua li troviamo qua li troviamo aspetta ma che cazzo ma perché questi non li ha uno dai su il pack scorta cos'è il pack scorta ragazzi io vi saluto vai vai vi saluto dai un bacio dai un bacio faccio detto in caso ragazzi è stato un piacere ma sono troppo stanco ci sentiamo ci vediamo lunedì ci vediamo lunedì mi raccomando passate un bel weekend divertitevi fatti bravi eh bravo studiate sì palle studiate cosa più importante chiamate sempre no dormite rocco ma porca e niente vi saluto rocco ha fatto animale rocco fai direttamente usa generatore rosa è quello che sto facendo ciao matteone allora allora ma che vado sopra ti torno sicuramente saluti saluti ti trovo a cuciliare maronna il solito napoletano rocco rocco il solito napoletano ok fatta questi buonanotte attenzione vai vai siamo carichi siamo carichi signori signori siamo carichi quanti ne facciamo quanti ne facciamo 10 o 20 50 10 10 o 20 50 quanti ne facciamo 10 o 20 30 100 10 20 va bene dai facciamo 15 allora facciamo 15 e la risolviamo ma si facciamo 15 e la risolviamo siamo a 4 però tutti i difili li devi aprire eh si 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 accostiamo una bella betta dai 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 adesso facciamo facciamo anche la bet 100% ne trovi uno eh si mamma mia se la trovi da 65 e più penso che hai vinto e la risolviamo sincero vai 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 Rocco giochi ancora a FIFA no chiedono come va no riprenderò tra un po' la pena del signor allora 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 maronna cosa stai facendo fa vedere fa sentire dai ragazzi se Luca trova un toti dono 100 sub nel suo canale c'è cazzone però il cucciolo chi è allora dai 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 riprenderai competitive oppure solo normale no penso normale no Rocco non c'è fa Rocco maronna Rocco e intanto il toti counter rimane sempre bravo falle da lì Matteo si andò da cuccare Matteo attenzione attenzione signori ma sono pieno di giocatori di merda se trovi un toti mi sabbo se trovo un toti tiro giù la porta tanto io mi accatta Erling Rocco già lo sa Rocco già lo sa allora 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 dai 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 mica pensa se trovo dai se trovi Erling sono messo sulla bridge se ne gare no Erling non c'è Erling domani no ma lo compro ma il dodicesimo uomo non esce a SBC no non esce a SBC di solito esce nei pacchi eh infatti ma la SBC la facevo già subito la facevo tutto tutto il club dentro boom dai Rocco non smettere con Twitch no 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 non smetto con Twitch ragazzi ancora è sicuro oh se trovi messi dono 50 sa bello dono io 50 sa allora dai quanto siamo tre sei nove ne mancano sei ne mancano sei ne mancano sei signori dai mancano sei io so fa una cifra dai 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 domani escono anche le menzioni d'onore vero si cos'è sarebbero eh to di menzioni d'onore qualche carta buona tipo Martinez che cazzo è perché perché hanno me l'ha messo perché non hai ruolo un caso perché non me l'ha messo perché non hai ruolo un caso dai 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 Pogba gioca domenica e che ne so chiedetelo ad Allegri secondo me entra sicuramente entra allora sicuramente entra Luca miglior rivelazione di Twitch no non esagerate non esagerate c'è un giocatore allora allora nel campo ragazzi esce Fofanà menzione d'onore Fofanà esce Fofanà uscirà Fofanà entra e si rompe il crociato Pogba minchia speriamo di no quanto siamo 3 6 no 11 ne mancano 4 io mi sa che sto più vedere Luca ne mancano 4 eh sono molto episti quanti ne hai fatti non ho controlla ne ho fatti 11 lei me ne dice errone grandissimo toi dai 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 ma te ne hai fatto 11 ciao Davide dai 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 perché l'anno ci manca sempre il giocatore ma che cazzo ne so ma quanto stai ne mancano 3 ne mancano 3 signori ne mancano 3 ne mancano 3 sto weekend cosa faccio eh non si può dire da Maro non ascoltate Rocco ragazzi non ascoltate Rocco no raga nulla torno a Napoli comunque rivedo tante bellissime persone mancano 2 oh my god ne mancano 2 ne mancano 2 dai 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 guarda guarda ah Rocco va a chiamare Rocco guarda come capisci no eh si esatto mi chiamo un animale oh oh che palle ne manca 1 ne manca 1 signora esattamente ne manca 1 guarda i promo quali promo quali promo Rocco parlaci nu poco di dialetto che volete sapere nu poco nu poco non arrivi un bello bacio a te ok signor ancora e che palle Rocco che teni a fare cose belle vai ci siamo ci siamo signori è il momento vai tu intanto finisci i tuoi vai esagerato Andre dai siamo siamo umili dai ma che si bugga il gioco all'ultimo si bugga il gioco madonna 50 Luca perché non metti la musica in sottofondo effettivamente si potrebbe mettere è fondamentale la musica di Twitch perché in momenti morti ti aiuta proprio allora 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 Rocco di che ti piace la pizza Rocco ti piace la pizza con l'ananas chiede da buon napoletano 15 io sto 10 è ovvio che sto andando a mano che palle quando ti bisogna fare così ma perché sei ma con questo gioco va sempre schifo forse ascolto Rocco e vado a chiava puri uscite un pacchetto da 3000 ah no l'ho già aperto l'ho già aperto e abbiamo trovato raghi di Chief ma ro mettetene un poco di Jolie beh vedi oggi siete meglio comunque siete migliori giustamente mettetene un poco di Jolie va sul mio Spotify che già sta aperto tra l'altro ah la Spotify eh già sta aperto ah qua play no no Guarino GR Motivation tutto a sinistra qua 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 vabbè esiste qua eh ma ora non si sente nella live credo allora abbassa un po' un metro verso vedi se lo sentono bene credo di lo sentite lo sentite si sente no non si sente no si o no che vuol dire si o no si o no e dice sin si no ah deve alzare un po' secondo me così non ci lega beh oh alza un'altra cosa ah ma infatti alza la da là playstation è mutato bravo ok ragazzi ora sei molto va vai 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 ce li abbiamo ce li abbiamo non ti becca il co no attenzione se ne cosa che ti rompono il cazzo che ti mandano l'avviso tu elimina il VOD a fine attenzione affangulo lascica pigliati il lascicard vai affangulo comunque dai dai maronna maronna oh raga sta azzeccato al microfono anziocano mamma ma poi ce li ho già tutti ma tutti ce li ho già club full fate bet bet ma fammo eh sì è la solita storia di sempre tu che fai un'incazzata per tutto il giorno grillish non ce l'avevo grillish strano l'avrò buttato in un SBC e manoleva lungo il got mamma c'è solo doppioni mamma caprari caprari può circolare rock no ma ragazzi ma guarda il cavo marò 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 che schifo mamma ragazzi no raga non sono né ricco né rock rock o sei rock mamma siamo umili canzone preferita dell'album ricchezza ricchezza e napoletano sono le mie due preferite adesso anche I am mi piace bene abbiamo trovato solo la merda torna noi di raga torna noi di noi domani parto perché l'ho finita eh dopo scopriamo un euro e vado questo vabbè facciamo i tuoi bagali un po' bagali un po' non usci da foot bagali un po' sono finiti poco troppo pure è bello sono finiti bagali un po' sono finiti bagali un po' eccolo ah fangur manco buono eh ma se mi ha già non 60 milioni eh grazie grazie vabbè pure tu c'hai 2.5 milioni per onesti sì è diverso da 60 bravo i 9 mila fifa points li tengo per settimana prossima sì è proprio dai tuoi chi ti crede sì eh cosa sì sì ma è proprio dai tuoi Rocco vai 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 aspetta vai vai Mauro Mauro ma come che fanno non ci capite ha fatto 23 75 più stava tryhardando ah tu fine mossi va tryhardando con la web up la mamma la stai avanti stava tryhardando sulla web up io pensavo questo sta fei cazzi su il live il live di mare e invece stavo facendo tempo che io ne ho fatte 15 lui ne ha fatti 23 Rocco sa t'ha divertit a un momento sì fatemi divertit vederti Rocco è lì i migliori amici no mi piace il suono ragà Luca mi ha promenso che se ti hanno la prossima porto al sushi vai e mi paga il sushi eh sì è ovvio se ti porto al sushi non è che ci sei è collegato guardo la seconda rocco ma ti piace a pesce o a pesce a pesce però non è a pesce è a pesce a pesce ti sei buggato che combinato ma si è buggato ma non funziona niente manca il tasto ps zero oh io si è bloccata la playstation spegni e riaccendi da lì ma si può occhio stavo buttando giù la peste no 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 la roba del signore Giuseppe amore mio c'è Alice ciao amore mio oh è caldo ciao amore amore ti prego alle undici quando salgo mi fai trovare il latte caldo oh piccolino per favore una tazza di latte di mandorle è caldo perché il latte normale non posso berlo per la dieta mamma che vogliaccio schiavizza la ragazza grazie amore ti amo tanto e le cagulo ti amo Rocco ti piace Alice il palle ti piace Alice ma perché chiagna Alice questo è un mondo è fantastico Alice posso porti a sedia dopo almeno questo weekend la porti fuori da Alice e Rocco già sa dove la porta ma dove la porta no non si dice vai è un bel posto è un bel posto la porta è un bel posto ti fa vedere il bel posto va bene grazie amore mi ha mandato pure il cuoricino mamma ha trovato latte produzione propria mi raccomando ragazzi c'è da dire a trovarla una come Alice che viene a fare i video di YouTube sotto però devi pagarmi per tutto quello che faccio e come ti pago ma la fai uscire venerdì cosa prossimo il video si di riguardo si siamo trentesimo piano ma si ribaga Rocco se avessi l'opportunità ma che lingua scusami Nicolas non si può dire io ce l'ho la mia crush in Stardust non è in house però però fa parte della ragazza ma sai pure te pagliaccia ok ci siamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo ma Rocco è veramente roc vai alti metti roc è una cerchia di zoz in giro per niente di speciale dopo la mettiamo non sai distinguere il bene e il male non sai dare vai Mauro 23 aprili tutti in serie tutti in serie vai Mauro parti Rocco ha una cerchia di zoz avrà buono buono avrà vai vai 25 frate trossa traietà sei proprio mi stupito ma non mi aspettavo la radio sai vai 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 ora pare un seconda ho solo male che fa l'ombra l'hai già detto attenzio attenzio vai 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 oh si l'unica andata può valere nella camera sta coperta non mi scarpe stai in alert quando chiami tu ti ho riuscito addio e sabato mi pareva lunaria buono trossard attenzione Martinelli Martinelli è buono Martinelli è buono su le puoi circolare su le coclean buono cazzo ciao ciao io sono di Bolzano nord c'è origini di Bolzano Grilish guarda come si sta avvicinando il Toti unif guarda come si sta avvicinando il Toti guarda come si sta avvicinando il Toti argentino mi chiamo argentino guarda come si avvicina altro if altro walk out occhio belgista occhio tu mi dici sempre si ma vuoi sapere chi è in da chat che si cose troppavano non vuoi sapere non vuoi sapere chi è mi fanno rire le si cose ultimo ma te che sei tu a Rao Miller buono 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 occhio buono sono finiti signori signori Toti ancora a zero vediamo settimana prossima noi ci vediamo lunedì con la live dei fantastici 4 alle 21.30 che sto weekend torno a casa mia buon weekend a tutti fate bravi e come dice Rocco chiamate sempre nooo nooo